A Mario Chiuto i miei più sinceri auguri per il prossimo ballottaggio, a nome mio personale e di tutto lo staff che ha collaborato alla campagna elettorale dedicata a Gentile. In questo mese in cui abbiamo lavorato insieme abbiamo avuto modo di apprezzarti non solo politicamente ma anche dal punto di vista umano. Ci è piaciuto anche il tuo modo di fare campagna elettorale, la tua eleganza e non scendere mai ai livelli bassi che il tuo avversario ha cercato, verso il quale ha cercato di trascinarti. Anche per questo meriti di essere sindaco di Cosenza e ti facciamo davvero i nostri più sinceri auguri. Forza Mario